Ieri una prima tranche, oggi il programma completo. Dopo giorni di attesa è stato pubblicato il calendario unico del Comune di Como che riunisce 120 iniziative tra eventi culturali, sportivi, mostre, festival, mercatini tipici e rassegne obbistiche che si svolgono in città nei mesi di agosto e settembre. Si tratta di proposte che arrivano da diversi soggetti che lavorano in ambito appunto turistico e culturale. La rassegna, organizzata e promossa dall'amministrazione comunale, accomodatevi, take a seat, si integra dunque nel calendario unico, proponendo 33 eventi di musica, teatro, arte varia, selezionati da una commissione tecnica di esperti in 16 differenti location di pregio del centro storico, il venerdì e il sabato sera. Ogni spettacolo dura dai 30 ai 50 minuti con una replica la stessa sera nello stesso luogo. Nelle location dove non sono presenti sedute o possono servire un numero limitato di persone, come nelle piazze Grimoldi, Volta, San Fedele e Largomiglio, saranno messe a disposizione degli sgabelli pieghevoli con tracolla, leggeri e richiudibili che si potranno ritirare all'autosilo comunale di Via Uguadri, lasciando le proprie generalità e riconsegnandoli entro l'una. Un numero più limitato di sgabelli portatili sarà a disposizione anche sulle piazze interessate, grazie ai sit Angels, operatori della cooperativa sociale Oasi, che promuove l'inserimento anche lavorativo di persone svantaggiate. Il calendario unico degli eventi è disponibile online sul sito visitcomo.eu. A partire da domani sarà distribuito in formato cartaceo negli infopoint turistici, nei locali del centro città, in 150 hotel e strutture extraalberghiere del lago e in altri 100 esercizi strategici in Canton Ticino. Grazie. Grazie. Grazie.